La cross braid è tra le acconciature più in dell'estate. Ecco come si fa e in quali occasioni indossarla. Cos'è la cross braid? La cross braid è un'acconciatura che si basa su due trecce, che si possono incrociare in diversi modi. Il primo metodo è alla francese e non fa che creare una vera e propria X con le trecce. Una versione più sofisticata è, invece, quella che si è vista nelle recenti passerelle, dove le due trecce sono più piccole e sono parallele tra loro, a incorniciare la testa. Oggi vedremo come si fa una cross braid, per aiutare chi ha i capelli un po' più lunghi e vuole avere un tocco glam prima di uscire di casa. Come si fa come si fa una cross braid? Prima di tutto, devi avere i capelli asciutti, puliti e abbastanza lisci e lunghi. Se i tuoi capelli si sfibrano e si annodano facilmente, meglio evitare questa soluzione. Dividi i tuoi capelli in ciocchi usando degli elastici adeguati. Dovresti dividere in due ciocchi grandi laterali, che saranno la base per le tue trecce, e una terza sezione dove i capelli resteranno liberi. La caratteristica di queste trecce è, infatti, che la parte sottostante dei capelli è libera. Ora, non ti resta che intrecciare le due ciocchi principali, avendo cura di metterle leggermente in diagonale. Ricorda che dovrai partire dall'alto verso il basso. Per fare una X, la ciocca di sinistra deve andare in basso a destra e la ciocca di destra deve andare in basso a sinistra. Si può ottenere una linea più morbida con ciocche meno voluminose. In questo caso, la ciocca di destra dovrà terminare, alla stessa altezza, verso sinistra e viceversa. Ora, usa delle forcine, per dare all'acconciatura l'effetto desiderato. Se vorrai fare la X, le forcine andranno in basso, mentre, se le vorrai parallele, le forcine andranno messe di lato, verso la parte finale della ciocca. Per queste operazioni, servono capelli non solo abbastanza lunghi, ma anche abbastanza leggeri. Da leggere, le acconciature intrecciate più trendy, foto, occasioni dove sfoggiarla. Le occasioni per sfoggiare questa acconciatura non mancano. Puoi usarla per aperitivi, cene con gli amici, ma anche per una passeggiata in città. La cosa importante è avere un po' di tempo e fare un po' di prove a casa, per essere sicure di ottenere un risultato perfetto. Per aiutarti, ricorda di usare delle forcine dello stesso colore dei tuoi capelli, in modo che si mimetizzino. Puoi usare dei prodotti anticrespo o fissanti per migliorare l'effetto delle tue cross braid. Aspetta, c'è ancora qualcosa da leggere, come fare le acconciature con le trecce tagli e acconciature anni 70 da copiare, foto e idee. Torna alla categoria hairstyle e amp, tips.